Tutto sommato è finita bene in quanto il problema contingente è stato risolto, gli autotrasportatori si sono visti di conoscere la nuova istituzione della corsa notturna, quella delle 2.30 che parte da Ischia per tornare poi alle 4 da Pozzuoli per Ischia, che era quello che loro in effetti chiedevano, e quindi tutto questo è avvenuto a spese di una corsa pomeridiana. Questa soppressione o sospensione di questa corsa pomeridiana da e per il Beverello in realtà ha un carattere, è stato sancito verbalizzandolo, che ha un carattere di mera eccezionalità. La regione a fronte di questa concessione che ha avuto da parte delle amministrazioni locali ha preso degli impegni ben precisi, impegni precisi che abbiamo chiesto di prendere per iscritto, quindi sono stati verbalizzati e sottoscritti. Sono questi che entro la prossima estate verrà rivisto completamente il piano orario attuale, che non soddisfa nessuno, non soddisfa gli autotrasportatori, non soddisfa a quanto pare gli armatori, ma soprattutto non soddisfa l'utenza, soprattutto l'utenza ischitana, ma non soddisfa neanche le imprese turistiche perché ci sono tantissime lamenti anche per il trasporto dei turisti.